Vendo giocattoli! Vendo giocattoli! Vendo ogni tipo di giocattoli! Guardate qui che belli! Ecco i giocattoli tutti per voi! La 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 la! Ma qualcuno vende giocattoli! Prendiamone uno! Ragazzi, vendo giocattoli! Guardate che belli! Ehi, voglio dei giocattoli, per favore! Ma certo! E quale vorresti? Voglio proprio questo qui! Vuoi questo? Questo costa 10 dollari! Costa ben 10 dollari! E invece che mi dici di questo? Vuoi quello? Quello costa 20 dollari! Che cosa? Quello costa 20 dollari! E invece questo quanto costa? Questo qui? Beh, questo costa 500 dollari! Ma io sono a corto di soldi! Niente soldi, niente giocattoli! Non posso comprare i giocattoli! Ma aspetta! Qui c'è una chitarra! Se suoniamo qualcuno ci darà dei soldi! Oh no! Cavolo, non ci sono clienti! E ora che devo fare? Proverò con un tamburello! Non arriva comunque nessuno! Ehi, proviamo con un flauto! Finalmente qualche soldo! Ma non basterà! Sai che c'è? Ho un'idea! Oh, è una porta magica! Wow! Un sassofono! Un altro tamburo! Wow! Un microfono! Wow! Una chitarra! E due maracas! Guardate, ragazzi! Quanti soldi! Posso comprare tutti i giocattoli! Vendo giocattoli? Sto vendendo tanti giocattoli! Voglio avere tutto, per favore! Sei pazzo? E hai i soldi? Ma certo che li ho! Li ho tutti proprio qui! Cosa? Hai i soldi? Certo! E guardali bene! Wow! 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 Hai così tanti soldi! Wow! 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 Oh no! Stai prendendo tutto! Oh mio Dio! Ciao ciao! Yeah! Ha comprato proprio tutto! Oh mio Dio!